musica 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 uè ah scusa devo venire a destra e salire al primo piano qua non è successo c'è stato un sprechio di cellulare ah si è bello permesso scusa ma questa pasta va documentata c'è c'è scusa ma sono io che ho avuto via di 40.000 euro che si qualifica musica ok siamo pronti? musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.